I got it! I got it! Sono con i bambini della zina! Come un bambino! Che roba! D'accordo, rifacciamo il fiocco! Però... Quando la botta è presente, perché io voglio quando la mimo, voglio un bambino tan-ti-tan-cia-ta-ta-ta-ra tan-ti-cia-cia-ta-ta-ta-ra tan-ti-cia-cia-ta-ra tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan le botte, e tu dopo il tan-tan-tan-tan-tan dai, quali fai? Io faccio la ritirata Allora, facciamo l'inizio così perché se faccio, per dire, è bruttissimo se il cantante fa così con il braccio e va vuoto non ci sento un cazzo, hai visto? Ti fai ridere! Io sono qui, non faccio il cretino No, però sì, non so Ma io faccio le slappe perché c'è anche il momento G Allora, 1, 2, 3 Allora, 1, 2, 3, 4 Allora, 1, 2, 3, 4 Va bene! Ti stai? Fa così E poi dopo il marco A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.